Simone Zazza, prossimo protagonista agli europei di calcio 2016, può gioire non solo per la convocazione ma anche perché ha fatto gol in amore. È riuscito a conquistare infatti gli inarrivabili e inaccessibili fashion blogger Chiara Biasi. Tutti sanno che lei è una delle ragazze più ambite nel mondo di internet, una di quelle che è davvero difficile da domare pure e ci è riuscito, proprio come fa con il pallone e quando lo accarezza, lo addomestica per poi scaraventarlo di giustezza in porta. D'attaccante rapace, ci è saputo fare. Del resto, le rose rosse arrivate a casa Biasi sono state una dimostrazione più che chiara dell'affetto che l'attaccante della Juventus e della nazionale nutre per lei. Adesso gli europei li terranno a distanza, ecco allora che Simone Zazza ha voluto farle questo regalo per farle capire che sarà sempre vicino a lei, sempre a sostegno. Adesso Chiara Biasi è diventata una Vags senza matrimonio però, quello è lo status che ha a comune a tutte le mogli dei calciatori, chissà che magari non stiano già pensando al matrimonio. Chi se ne frega.